Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continueremo con la parte 2 di questo avvolgicavi automatico per avvolgere i cavi sulle bobine. Oggi continueremo questo progetto con l'impianto elettrico per regolare la direzione e la velocità dell'avvolgicavi. Se non l'avete vista vi consiglio di guardare prima la parte 1 di cui vi lascio il link in descrizione e nelle schede. Iniziamo! 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 Come avete visto abbiamo montato il regolatore di tensione che ci permetterà di regolare la velocità del motore. Poi abbiamo messo degli interruttori per accendere e spegnere il circuito e per regolare la direzione. Ho anche aggiunto un pedale per controllare meglio il motore. Accendendo questo interruttore accendiamo il circuito con quello a fianco impostiamo la direzione del motore e nel momento in cui premiamo il pedale il motore partirà e quando lo lasciamo si fermerà. Con il piccolo potenziometro sul regolatore di tensione possiamo regolare la velocità con cui avvolgeremo i cavi come preferiamo. Ma adesso prendiamo una matassina di cavo e proviamo ad avvolgerla sulla bobina. Grazie a tutti. Abbiamo finito di avvolgere 25 metri di cavo in circa due minuti che mi sembra buono anche perché a farlo a mano avrei impiegato almeno mezz'ora. Io spero che questo video vi sia stato utile se avete dubbi scrivetemelo nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like. Ciao! 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 Ciao!